6 novembre 2024, questo giorno segna un nuovo All Time I, quindi buon nuovo All Time I a tutti, proprio come ho augurato già anche su X. Come possiamo vedere nella nottata sono stati superati i 73.600 e qualcosa del precedente All Time I, siamo con un nuovo picco segnalato che è 75.361 dollari, questo lo sto prendendo da CoinMarketCap. In questo momento c'è un po' di ritracciamento con il prezzo a 73.449 dollari nel momento in cui registro. Premessa, è molto probabile che vedremo molta volatilità, ma cosa sta succedendo? Perché Bitcoin ha fatto praticamente l'8% durante la nottata? È ovvio capirlo, è ovvio saperlo, visto che ne abbiamo parlato tanto. Sono in corso le elezioni per il nuovo presidente negli Stati Uniti d'America e molto probabilmente, quasi al 100%, vincerà Donald Trump. Quindi il mercato ha reagito in questo modo. Faccio una breve analisi. Questo video è quasi una live perché non ho avuto molto tempo di analizzare tutto, ma facciamo il riassunto velocemente. Vi faccio vedere da NBC News quello che sta succedendo. Ci sono 266 electoral college a favore di Trump contro il 219 di Kamala Harris. A 270 viene praticamente dichiarata la vittoria. Qui vedo 266, ho visto online anche 267. Quindi ancora non è certo al 100%, ma ci siamo molto vicini. Difatti, se vado a prendere il New York Times, vediamo che la probabilità di vittoria di Donald Trump è data come very likely, molto molto probabile. Ormai sembra essere fatta, tanto che Trump ha già fatto dei discorsi proclami di vittoria. Al contrario, è molto improbabile che la cosa possa cambiare. Per questo motivo il mercato ha già reagito in un modo netto rispetto all'incertezza che precedeva queste elezioni. Se dovessi guardare Polimarket che abbiamo seguito durante tutto questo periodo, che precedeva questo evento, praticamente non c'è più modo di scommettere a favore di Kamala Harris. Donald Trump pesa il 99.6%, ha raggiunto praticamente il massimo. L'outcome è scontato su questo tipo di prediction market. Quindi anche qui ormai lo danno per fatto. Ripeto quindi, non posso dare l'ufficialità, ma è come se lo avessimo. È molto improbabile che le cose cambino in questo momento. Andiamo quindi a vedere cosa è successo sul mercato. E quando dico mercato mi riferisco prevalentemente a Bitcoin, anche se poi effettivamente anche le ultime 24 ore di tutti gli asset, tutti gli altri asset, sono stati molto positivi. Guardate qui da Crypto Bubbles che tipo di percentuali ci sono un po' su tutto il mercato definito crypto. Ma appunto Bitcoin che esce da questo canale che lo aveva visto lateralizzare per diverso tempo, a seguito di questo Golden Cross, in questo momento fa vedere una delle candele più importanti della sua storia. Candela importante perché? Perché setta un nuovo livello, questo 75.391 circa, che qui su Coinbase è praticamente il nuovo All Time I. Che poi non è passato neanche troppo tempo questa volta, visto che c'è stato questo inedito in cui l'All Time I lo abbiamo visto addirittura pre-Halving, cosa che non era mai successa in precedenza. E comunque questo picco, che appunto erano i 73.700 circa, come dicevo, è stato rotto proprio questa notte. Siamo in questo momento abbastanza difficile da interpretare perché si va in spazio aperto. Qui non ci sono più resistenze verso l'alto. Non si sa che tipo di reazione potrebbe avere adesso il mercato a questa price action. La cosa interessante infatti secondo me non è neanche tanto vedere qui quello che sta succedendo. Difatti poi la cosa interessante è che in questo momento la resistenza ancora fa vedere degli effetti. Cioè il precedente All Time I ancora è una resistenza. Nonostante sia stata rotta c'è stato anche un take profit e adesso in queste ultime ore, nelle ore in cui registro, nella mattinata del 6 novembre per noi europei, vediamo che c'è una resistenza al prezzo sempre lì, sempre sul precedente All Time I nonostante sia stato già rotto. Quindi questo continuerà a esistere soprattutto perché c'è un dato molto molto importante. Guardate qui, questa spinta è stata prevalentemente retail e fuori dagli ETF, cosa che è nuova rispetto all'andamento degli ultimi mesi. Praticamente è stata una spinta molto degenna se vogliamo, molto retail, che quindi porta anche grande volatilità. Difatti è stato fatto un 8% in poche ore e si è tornati subito giù, proprio come quelle vibes di Bitcoin di qualche tempo fa. Bitcoin sta un po' cambiando, ce ne siamo accorti tutti, a livello di prezzo, non mi interpretate male. A livello di mercato è un po' cambiato, ci sono gli ETF, addirittura gli ETF spot quindi, e ci sono addirittura le opzioni, quindi derivati sugli ETF stessi. Questo comporta meno volatilità sul mercato tradizionale, ma c'è stata una fiammata che ricorda i vecchi tempi, quando Bitcoin reagiva solamente alle notizie, quando Bitcoin era solamente retail e spot e aveva ancora più volatilità. Questo è quello che è successo questa notte, ancora una parte di sé è fatta così, quindi una parte di noi. Ieri, nella giornata del 5 novembre, c'è stato un netto negativo, quindi una fuoriuscita dagli ETF. La cosa molto interessante sarà vedere cosa faranno gli ETF nella giornata di oggi, del 6 novembre, quindi all'apertura del mercato azionario. Andiamo con ordine, faccio vedere un po' di rassegna stampa. Qui, anche su Cointelegraph, parlano di comeback improbabile per quanto riguarda Kamala Harris, e quindi una vittoria di Trump che si sta assicurando pian piano i 270 voti elettorali, quindi questi grandi elettori che gli assicurerebbero la vittoria. Il sistema di votazione e elezione americana è particolare, adesso inutile entrare nel dettaglio, non è il mio, andiamo veramente off topic, ma comunque sia, sembra essere molto molto vicina, come vi facevo vedere, siamo a 267, con molta probabilità nella giornata di oggi o in qualche giorno, questi verranno assicurati. Non è detto che oggi avremo la certezza, potrebbe durare anche molto di più per avere l'ufficialità, ma il mercato già sembra aver dato il suo riscontro, il suo verdetto. Trump parla da vincitore, sono molto orgoglioso del vostro voto e spero che un giorno tornerete a guardare indietro e dire che questo è stato uno dei momenti veramente importanti della vostra vita, quando ho votato per questo gruppo di persone. Quindi, insomma, fa proclami da vincitore, già fa discorsi da vincitore. C'è stato un grande protagonista che è stato Elon Musk, di fatti, Elon Musk festigia in questo modo e dà la cosa ormai perfatta anche lui, e il futuro sarà fantastico. Non solo, questo è un risvolto che voglio segnalarvi, c'è anche Naib Bukele, che fa le congratulazioni a Donald Trump, dandolo come presidente eletto, quindi dà la cosa perfatta anche lui, augurandogli il meglio. E questo è un aspetto molto importante che potremo seguire in futuro. Probabilmente è stato anche poco coperto questo discorso. Insomma, non voglio farla molto lunga questo video, anche perché seguiranno delle live anche su CoinSquare, anche perché ne parleremo anche nel prossimo Crypto Monday e in futuro, ma secondo me siamo all'inizio di questo ciclo. Da oggi in poi parte il vero ciclo. Questo non vuol dire che per forza di cose il prezzo andrà in modo parabolico in un'unica direzione. La volatilità sarà molto intensa e questo perché? Perché questo spike, lo ripeto, è stato fatto in modo molto degenna, scommettendo su questo risultato di fatti molto molto volatile, è già tornato giù un pochino. La cosa interessante sarà vedere l'evoluzione del mercato anche con lo strumento finanziario degli ETF, come reagiranno da qui in poi gli inflow sui ETF spot e come il mercato anche delle opzioni andrà a limare questa sua volatilità, attendendo l'ufficialità del tutto. Chiudo solamente con una certezza, la certezza è quella che al momento sia chi governa negli Stati Uniti ma anche chi governa in altri posti ha come arma più forte quella di stampare denaro, così come avviene sempre con una valuta fiat. E quest'arma è quella che verrà utilizzata costantemente nel tempo per svalutare il potere d'acquisto della moneta emessa dalla banca centrale del paese e quindi andare in qualche modo a inflazionare asset che hanno un altro tipo di caratteristica economica. Quindi Bitcoin è destinato a crescere nel tempo fin tanto che esisterà la moneta fiat. È un discorso che ho fatto ormai diverse volte. Chi pensava che Bitcoin non avrebbe superato il precedente all time I si è sbagliato per l'ennesima volta. Ed era abbastanza ovvio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.